amici di no al cinema bentornati sul canale con una nuova recensione senza spoiler da molti di voi attesissima perché riguarda un film che è diretto da uno dei miei registi nemesi per eccellenza sto parlando ovviamente di assassino a venezia terzo capitolo delle avventure dell'hercule poirò diretto e interpretato da quel mattacchione di kenneth branag chi mi segue con costanza sa benissimo ne ho già parlato più volte sia su questo canale che sul canale di altri amici che il mio rapporto con il poirò di branag è a dir poco problematico lo è stato innanzitutto perché nei primi due capitoli di questa saga se così vogliamo chiamarla il buon branag che già di per sé come regista non mi fa impazzire con il suo essere così spesso assolutamente pomposo e pieno di sé barocco ed eccessivo con stile diciamo atteggiamento che può andar bene per le sue buone opere ispirate a shakespeare io credo che sia un grande un grande uomo shakespeareano branag sia teatro che al cinema ma che al di fuori di quell'ambito che è sicuramente padroneggia poi poco di buono ha fatto nel mondo del cinema parlo ovviamente da regista ma spesso anche da attore basi penserà alla sua pessima performance nei panni del villain di di tenet di christopher nolan i primi due appunto adattamenti di agatha christie a opera di branag andavano a toccare due storie della mitica scrittrice di gialli che erano molto care al mio cuore visto che assassini sul nilo era già stato trasposto per il cinema da john guillermin con protagonista peter usinov non mi ricordo esattamente l'anno ma insomma una quarantina di anni fa in maniera eccellente e soprattutto soprattutto assassino sull'oriente express è stato trasposto sul grande schermo dal leggendario e sì nel lume in un vero e proprio capolavoro del cinema crime giallo d'epoca finché vinse anche un oscar per l'interpretazione magnifica di ingrid bergman e aveva un cast incredibile composto da albert finney martin balsam sean connery anthony perkins e chi più ne ha loren bacal e chi più ne ha più ne metta in entrambi i casi branag per quanto mi riguarda non si era assolutamente dimostrato all'altezza delle opere che doveva trasporre sul canale trovate la recensione senza spoiler di assassino sul nilo quindi se volete darci un'occhiata datecela pure però diciamo che l'odio che ho provato per le trasposizioni soprattutto l'ho riversato verso assassini sull'oriente express perché in maniera molto artificiosa molto raffazzonata adattava un testo che appunto in passato era stato adattato in maniera molto molto migliore vi invito a recuperare assassini sull'oriente express di sidney lume e assassini sul nilo di john guillermin per capire come secondo me va fatto un adattamento di agatha christie a questo giro diciamo partiva un po vantaggiato nei miei confronti canet branag perché non esistono diciamo adattamenti cinematografici o almeno adattamenti famosi o che io conosco della strage degli innocenti quindi come ho detto nelle missioni instagram l'accusa giro è anche una faccenda personale piccola battuta relativa al mio cognome e soprattutto io non ho letto il romanzo originale quindi diciamo che a questo giro branag va a toccare un'opera nei confronti della quale ero assolutamente vergine nei confronti della quale non avevo confronti da fare a livello cinematografico assassino a venezia haunting in venice in originale partiamo proprio da venezia da due punti di vista il primo per quanto riguarda la mostra del cinema io ormai da mesi mi ero rassegnato all'idea che un film che si chiama assassino a venezia che esce a metà settembre sarebbe stato uno dei film evento in concorso fuori concorso alla mostra cinema di venezia quale migliore occasione per branag e inco per presentare il film che appunto si ambienta nella città veneta quindi diciamo sono rimasto molto molto sorpreso quando circa un mesetto fa durante l'annuncio del programma della Kermess il film non è figurato diciamo che è venuto fuori nelle settimane successive almeno il rumor secondo la quale la mostra addirittura ha rifiutato il film non ritenendolo all'altezza della propria programmazione ora è vero come ha detto qualcun altro che uno potrebbe mettersi a fare la lista è ma si parla delle persone che hanno scartato questo piuttosto che quell'altro ma già secondo me questo non è un bel biglietto da visita per il film di branag essere almeno per da quel che si dice scartato dalla mostra del cinema di venezia dall'altro parlo di venezia in relazione alla location del film il romanzo originale di agatha christie non si svolge a venezia la location è diciamo stata impostata per il film e credo che l'unico motivo per cui è stato stata scelta venezia è per far fare una vacanza premia al bom branag alla sua troupe e al suo cast perché questo film si sarebbe potuto svolgere in qualsiasi altra città del mondo e non sarebbe cambiato assolutamente niente tra l'altro così come era successo in assassini sul nilo nelle prime immagini venezia è una combinazione di sì riprese reali ma anche di matte painting digitali assolutamente atroci e in linea di massima al di là di qualche panoramica che è bella di per sé per forza è venezia la città diciamo fa tutt'altro che splendere nel film di branag è una location assolutamente inutile se non appunto per l'elemento acquatico che però insomma te lo puoi inventare anche da un'altra parte non mi voglio soffermare troppo sulla cosa ma veramente venezia nel film è utile quanto un buco di deletano sul gomito per citare in maniera più educata kill bill volume 2 allora io cerco un attimino di tirare le fine non fare un discorso troppo lungo vogliamo dire che è un film meno brutto dei due precedenti io posso spingermi a fare una dichiarazione del genere solo pensando appunto al fatto che non ho un rapporto personale con questa storia credo che branag abbia fatto non credo che sia uno dei romanzi più memorabili e più famosi cristi per un motivo mentre gli altri due Nilo e Oriente Express lo sono perché sono tra le sue opere migliori e quindi probabilmente diciamo che lì il peccato di branag era un pochino più pesante perché andavano a toccare dei testi quasi sacri soprattutto per quanto riguarda il contesto della bibliografia cristiana non nel senso di Cristo ma di Agatha Christie però ecco diciamo potrei dire che è un po' meno peggio ma questo vorrebbe dire non vorrebbe comunque dire che è un bel film per diversi motivi innanzitutto sul piano narrativo il film è assolutamente piattissimo non ha veramente poco da offrire a livello emotivo e a livello narrativo questo film al punto che si spinge a giocarsi la carta del paranormale in maniera veramente scemotta e tendenziosa mi sento di dire c'è solo una cosa che succede fuori dallo schema degli omicidi e del facciamo le domande ai sospettati che può portare alla soluzione una e una soltanto ed è un elemento talmente palese per chi un minimo conosce Gialli che forse è ancora più schiaffato in faccia allo spettatore dei grugni da cattivi dei due assassini di assassino sul Nilo che arrivavano in scena facevano assassino 1 assassino 2 per forza quando erano in camera grignano porca miseria cioè sembra quasi che Branagh non interessi tenere il segreto io ho sgammato tutto alla terza inquadratura in cui tutto era talmente palese e non penso di essere più intelligente di tanti altri infatti ho sentito anche altre persone in sala fa vabbè ma bla 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 e quello era la narrativa del film è assolutamente piatta talmente piatta che l'ora e 40 grazie al cielo scarsa di durata vola via che è una bellezza ma perché semplicemente il film è un viaggio d'acqua come si dice in questi casi sembra veramente di non assistere a una storia ma a un contesto di personaggi e di location che si dilunga senza sviluppare niente di interessante per tutta la durata del film i personaggi sono o assolutamente trasparenti da quanto sono poco caratterizzati e inutili o talmente sopra le righe da diventare ridicoli Michelle Yeoh fresca vincitrice premio Oscar ha una scena in cui è costretta a fare comunque dei movimenti e delle smorfie per motivi X narrativi e io mi sono messo a ridere da quanto è eccessiva la sua recitazione da quanto è eccessiva la messa in scena cosa che si ripete in altre due o tre situazioni con altri attori del cast Branagh non è mai stato un bravo regista di attori non sa dirigere se stesso pensiamo cosa sa fare con gli altri la soluzione è letteralmente davanti allo sguardo dello spettatore dal momento in cui entra in scena e c'è veramente poco io quando guardo un film giallo adoro seguire l'avanzamento dell'indagine adoro conoscere i profili dei personaggi per cercare di contestualizzare chi potrebbe essere stato e chi potrebbe non essere il colpevole anche sulla base dei caratteri dei personaggi e questi personaggi sono letteralmente figurine al servizio di una dinamica talmente semplice talmente banale che non ti lasciano letteralmente niente è tutto veramente in colore in questo film a partire anche dalla messa in scena una fotografia slavatissima ci sono alcune sequenze in esterni a Venezia che hanno una fotografia degna della peggior fiction italiana la messa in scena di Branagh è assolutamente piatta l'unico mezzo espressivo che sembra aver scoperto a questo giro il buon Kenneth è il grand'angolo Kenneth Branagh ha scoperto il grand'angolo con l'inquadratura un po' storta che fa film horror di un tempo e per il resto non c'è un guizzo che sia uno a livello narrativo a livello di scrittura, a livello recitativo appunto arriva a usare i jumpscare per ricordare al pubblico che si sta guardando un thriller il buon Kenneth tra l'altro se c'era una cosa che veramente mi aveva sdubbiato un pochino in Orient Express ma soprattutto in Assassin's Creed era il tempo e la dedizione di Branagh a questa sorta di approfondimento psico-emotivo di Hercule Poirot il suo passato, il suo trauma in guerra la donna, l'amore perduto del suo passato che quasi soprattutto in Assassin's Creed Nilo si mangiava in importanza in struttura la trama gialla ecco di tutto questo ne è rimasto un bene amato cazzo detto proprio come dicono i francesi in questo film è il culpero è il culpero appunto sì è vero ha smesso di indagare sulla carta ma chi ci crede che dopo tre minuti non si metta a fare quello che sa fare meglio di chiunque al mondo quindi tutto il lavoro inutile e anche abbastanza ridicolo e superficiale ricordiamocelo i baffi che crescono su una cicatrice grossa così perché sì perché nasconde il trauma bla 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 completamente sparito al terzo film a favore di una trama gialla assolutamente ridicola talmente basica, talmente priva di guizzo che non regala quasi niente allo spettatore c'è appunto questo elemento sovrannaturale ma sarà sovrannaturale chi lo sa, chi conosce Agatha Christie sa se la cosa è più o meno fattibile che sul finale tra l'altro viene gestita quando tutto sembra essere chiaro e lampante in maniera anche molto ammiccante e stupida per quanto mi riguarda nei confronti dello spettatore non mi sento di aggiungere molto altro è un film che si può guardare per passare una serata al cinema posso dire di sì posso dire che mi ha indignato meno di Assassini sull'Oriente Express e di Assassini sul Nilo sicuramente sì perché ero molto affezionato a quelle trame e so che sono state adattate cento volte meglio con molta più umiltà da registi che valgono cento volte un Kenneth Branagh e soprattutto da attori che valgono cento volte un Kenneth Branagh che questo significa Cassassino a Venezia un passo avanti o un miglioramento nel canone puaroiano di chiamiamolo così di Kenneth Branagh assolutamente no è un film in colore piattissimo senza verve con dei personaggi assolutamente dimenticabili e delle dinamiche anche ai limiti del ridicolo basta vedere come muore la prima vittima in un modo che è assolutamente fisicamente impossibile al punto da risultare ridicolo non c'è direzione degli attori un saluto a Riccardo Scamarcio che non solo recita malissimo ma in italiano si doppia altrettanto male al punto da diventare una macchietta involontaria e mi sono sentito molto vecchio quando due ragazze molto molto giovani in sala si sono chieste se fosse italiano o meno questo significa che non conoscevano il buon Scamarcio e addio i tempi delle adolescenti di tre metri sopra il cielo che ormai sono quarantenni come me un film assolutamente se non detestabile dimenticabilissimo dal mio punto di vista continua questa sorta di crimine perpetrato da Branagh nei confronti di Poirot e di Agatha Christie una delle più grandi scrittiche di Gialli al mondo trattata nella maniera più sufficiente e più in colore di sempre da questo regista che non si sa perché ottiene un sacco di credito da molti appassionati che se invece andiamo ad analizzare nella sua carriera da regista al di là ripeto di ottimi in passato adattamenti di Shakespeare ci ha regalato opere decisamente dimenticabili Assassino a Venezia è al cinema da oggi fatemi sapere man mano che lo andrete a vedere cosa ne pensate qualcuno potrà dire e cosa ti aspettavi dal later di Kenneth Branagh io vado sempre al cinema cercando di avere una mentalità aperta e sperando di vedere qualcosa di buono mi dispiace ma questo film è tutt'altro che buon intervento intrattenimento è intrattenimento spicciolo con un budget molto alto che non mette mai davanti allo spettatore una sfida o qualcosa di coinvolgente di intrattenimento l'ho trovato veramente un film ai minimi termini forse qualcosa sotto sotto tutti i punti di vista scrittura interpretazione messa in scena è veramente un film povero talmente povero che lo si guarda e lo si dimentica nello stesso momento in cui iniziano i titoli di coda quindi se per voi questo è un buon modo di approcciarsi ad Agatha Christie veramente con tutto il cuore vi dico tenetevelo pure io continuo a guardarmi i vecchi film e al massimo la serie tv Poirot con David Sushet fatemi sapere appunto cosa ne pensate mano a mano che andate a vedere il film condividete in non cinema con i vostri migliori amici i vostri migliori nemici i vostri migliori peggiori ho sbagliato tutta la formula condividete in non cinema con i vostri migliori nemici i vostri peggiori amici scrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguite la nostra pagina facebook il nostro profilo instagram e il mio profilo instagram privato se volete michelino85 per tutti gli aggiornamenti sulla programmazione del canale a tal proposito vi volevo dire che la live sul meglio e il peggio di Venezia e sulla discussione sui premi assegnati insieme ad alcuni dei miei compagni di viaggio dovrebbe andare in onda sul canale lunedì tardo pomeriggio questa settimana di rientro ragazzi è stata bestiale non sono riuscito a inserire in tutti gli impegni da rientro a casa anche questa live insieme ad altre persone quindi seguite appunto i nostri canali social per sapere quando arriveranno i prossimi contenuti di Inno al Cinema su questi Lidi a regola sabato pomeriggio dovrei recuperare The Ecolizer 3 quindi entro la serata dovrebbe uscire la recensione senza spoiler e poi ci vediamo la prossima settimana con la live e tutti i vari appuntamenti soliti del canale ripeto commentate sotto questo video Kenneth Branagh me l'hai rifatta un'altra volta ma io tanto lo sapevo Marrano che non c'è altro un saluto e alla prossima vorrei parlare